Globus Television Abbiamo detto che chiude alcune parti ma perché chiude una stagione estiva ma apre tante finestre tanto in ambito sociale quanto in ambito assolutamente culturale. Questo è un evento che noi abbiamo giudicato da subito importante, è una seconda edizione ma è al tempo stesso una sublimazione di quella prima edizione perché la qualità degli eventi e la quantità anche degli ospiti è assolutamente di prima grandezza. Se noi poi tutto questo lo abbiniamo alla solidarietà ecco il mix è vincente. Quindi cultura, sport, spettacolo e soprattutto solidarietà. Certo anche perché a ben pensare la cultura della solidarietà è quella che a noi siciliani non è mai mancata però certe volte abbiamo la necessità di viverla in modo costante e di avere delle applicazioni pratiche. Ecco qui noi in questo caso investiremo sul nostro territorio la forma di solidarietà che noi sperimenteremo. Quindi per concludere ci sarà un grande evento di solidarietà che sarà poi tradotto nel parco giochi alla villa comunale. Quello che noi vorremmo è che la solidarietà sia anche visibile. Non c'è modo migliore di lasciare sul territorio un'opera che ricordi costantemente gli eventi che l'hanno creata. Ecco questo ci sembra del modo migliore abbinandola a un evento importante come questo siamo sicuri che anche le generazioni successive abbiano un ricordo di quanto è avvenuto. E allora che sia di buon auspicio questa seconda edizione del grande Taormina Culture of Excellence. Incrociamo le dita e dal giorno 30 settembre o meglio dall'1 ottobre diamoci appuntamento alla terza edizione. Grazie Assessore. A voi. Grazie.